Un'operazione multipla combinata che ha salvato la vita di un paziente con una grave patologia cardiaca. L'intervento senza precedenti è stato svolto a Padova dove all'uomo poco prima dell'operazione al cuore è stata diagnosticata anche una neoplasia renale, condizioni talmente gravi da non poter effettuare un intervento chirurgico al rene senza rischiare di mettere a repentaglio la vita stessa dell'uomo, di cui la necessità di un'azione combinata. Questo è consistito nel rimuovere la neoplasia renale da parte dei colleghi urologi con il sistema robotico Da Vinci sostenendo la funzione cardiaca con l'ECMO che è un sistema di assistenza meccanica al circolo esterno. Un'operazione basata sulla mini-invasività e sull'utilizzo di tecnologie che hanno permesso di sostenere la funzione cardiaca durante l'intervento urologico. Il tutto grazie all'uso di un'innovativa tecnica chirurgica per l'impianto del ventricolo artificiale che ha permesso di ridurre lo stress chirurgico. La possibilità di utilizzare il robot chirurgico permette di condurre interventi particolarmente complessi come in questo caso in cui bisognava preservare i rene ma rimuovere la neoplasia facendolo con un adeguato rispetto della situazione oncologica permette di fatto di riuscire a ridurre problemi come il sanguinamento e migliorando nettamente poi anche il decorso post-operatorio.